E niente, torniamo a documentare la situazione di Rio Vivo Marinelle, a dir poco disastrosa, direi io, che a dir poco disastrosa. Qui praticamente ho parlato con un signore che ci vive da tre anni e ha detto che quest'anno in ogni caso è stata una mareggiata molto forte e molto particolare. Caspita! E' proprio un disastro, a dir poco. E' proprio un disastro. Essendo qui l'aria camper, io non voglio immaginare, visto che loro prendono in gestione, che costi ci saranno pure di ripristino pure di tutto questo. Comunque, è veramente un casino. Questo è un sentiero che era stato anche pavimentato non da molto tempo. Mi sembra che l'avevo anche documentato con qualche video e foto in passato, ma vedere questo disastro è veramente deludente. Ecco, questi sono i servizi dell'aria camper, le varie postazioni. Certo che se ogni anno dovesse fare una cosa del genere, qui sono soldi ogni volta per rimettere a posto tutto. E' anche vero che magari ci metteranno con qualche scavatore organizzato qualche giorno. Forse una settimana si ripristina tutto, però intanto è un costo questo. E' un costo che non so se si può anche prevenire. Anche se non è solo quel problema, ma so che è stato anche così a Campomarino, quindi la zona sud e dietro a Montenero la zona nord. Termoli. In fondo. Porto. Eh già. Ogni tanto mi piace venire da queste parti per fare una passeggiata. Qui spesso poi viene tutto gli abitanti del posto, i locali che vengono a portare i cani a passeggio. C'è sempre anche qualcosa per i bambini, come potete vedere. E' stata una parte che era veramente stata attrezzata per lo svago. Però, messa così all'abbandono, è veramente un casino. Mi piace venire qua, ma è un po' desolante questa storia. Non sai neanche se è pericolosa. Vedete che spettacolo comunque, le palme. Eh vabbè, che dire. La natura a volte ci dimostra quanto è potente. Vedete sto tronco? Questo pure dal mare viene. Questo è il mare che l'ha fatta arrivare fino a qua. Non è che è mareggiata. Per far capire la potenza delle mareggiate che cosa fanno. Le ture. Vive da queste parti, infatti, è tragica. Ma, salutoni da ExaSystem. Se vi piace anche questo degrado, potete mettere un like.